buongiorno benvenuti a questa zuppa di porro di venerdì 3 agosto vediamo quali sono le cose fondamentali che sono avvenute sui giornali aspettate che mi metto un po meglio su questa telecamera oggi riprende molto meglio allora quali sono le cose che sono avvenute oggi sui giornali insomma c'è ancora tutta la storia che riguarda il la nomine di foa presidente della rai cioè la cosa ormai la sapete non è stata votata in consiglio di vigilanza quindi non può fare il presidente della rai ma è lì come presidente come consigliere anziano perché coincidenza vuole che sia anche il più anziano tra i consiglieri nominati nella board della rai mi sembra strano ma evidentemente è così non so devo averla letta male questa cosa perché mi ricordavo foa un po più giovane rispetto agli altri però ovviamente è il più anziano di tutti quanti molto divertente e oggi il come sempre pezzo di cassese che continua sulla teoria di polito per cui questi stanno rottizzando dice in maniera indecorosa il paese come se il passato non fosse avvenuto questa non è una giustificazione del presente però è semplicemente un rimettere le cose nel loro lato francesco alberoni ve lo ricordate il sociologo diventò presidente della rai dopo che si dimise l'annunziata in qualità di consigliere anziano e per un anno fece il presidente della rai come consigliere anziano questo lo cita oggi un pezzo di quello della sera in cui fa pensare che il tener duro di salvini possa permettere a foa di rimanere in qualità di consigliere anziano come sostanzialmente facenti veci del presidente e procedere quindi alle nomine che quello che pesa perché il presidente della rai non conta assolutamente nulla quello che conta sono le nomine tg1 tg2 tg3 e dei direttori di rete questo è quello che conta ci sono tutte le indiscrizioni la pronti in pole position al rai 1 e san giuliano tg1 san giuliano matano al tg2 mazza o non mi ricordo come si chiama al tg3 l'attuale questo è quello che conta quello che conta poi è lo scandalo che oggi i giornali alimentano sul fatto che foa avrebbe a un figlio che lavora per salvini 23 anni lavorato alla bocconi è andato a fare un corso di social media all'estero e oggi farebbe parte dello staff delle persone che lavora con salvini proprio per le comunicazioni digitali questo è quello che i giornali citano come evidente conflitto di interessi da parte del ministro del dello sviluppo degli interni nel frattempo la cosa che più mi è divertita oggi a me ve lo vedevo dire è la storia della desi ve la ricordate quella ragazza di colore campionista italiana adesso non mi ricordo bene di che cosa che è stata ferita ad un occhio e che ha piagnucolato giustamente come tutti noi per il fatto che fosse stata ferita il problema è che si è lamentata del razzismo questo è un attacco razzista contro noi che siamo in italia nigeriani di seconda generazione e il papà ha rilasciato un'intervista alla stampa dicendo che si sentiva maltrattato che il clima era cambiato che salvini e questo governo giallo verde faceva schifo tutto bene poi si va ad arrestare già l'abbiamo capito d'altronde perché la procura che ha fatto un'indagine per ignoti senza l'aggravante razzista e la procura la procura di spataro come notava ieri mi sembra il fatto quotidiano uno che certamente non la manda dire a salvini arrestano o comunque fermano scusatemi tre giovani italiani ventenni che ci dicono che era un atto di goliardia ne avevano fatti altri sette un pensionato una signora questi cretini avevano attaccato indipendentemente dal colore della pelle uno di loro tra l'altro by the way in questo caso il figlio ha un ruolo diverso rispetto a quello di foa perché era figlio di un sindaco ex sindaco e consigliere del pd questo secondo me vuol dire proprio nulla così come il figlio di foa li lascerea da parte i figli sia quando li utilizziamo contro foa sia quando li utilizziamo contro il pd la questione talmente forte e quella porca puttana che questi tre ragazzi avevano lanciato le uova perché avevano visto in un film a chiunque indipendentemente dal loro colore della pelle questo forse è importante non che sia il sindaco non un sindaco del pd non è che i genitori rispondono delle cagate che fanno i figli e troppe ne conosciamo ma andiamo avanti perché sulla storia di desi è straordinario il pezzo di borgonovo oggi sulla verità perché si scopre che il papà che si sentiva tanto maltrattato dall'italia è stato arrestato per una retata sulla mafia nigeriana che è una cosa seria grave e che pare sia dietro alla vicenda di macerata di cui oggi si occupa fa bene in repubblica dice cosa è successo a macerata dopo la morte di pamela e dopo vi ricordate gli spari di traini però chiusa questa parentesi il punto fondamentale che ritrova borgonovo sulla verità è che il padre di desi che si lamentava del razzismo italiano è stato in carcere cinque anni condannato nel 2007 per spaccio di cocaina associazioni tipo mafioso e tutta una serie di reati mostruosi che hanno anche a che vedere con la tratta delle nere con la tratta delle nere chiamatele come voi nigeriane poi fatte prostituire perché faceva parte di questo clan sia in nigeria sia in italia ed era un uomo forte come alletto borgonovo nella sua e nelle relazioni per cui fu condannato a cinque anni non a otto perché fece il rito abbreviato che permette uno sconto di pena quindi era da poco uscito al carcere che lui si trenti senta in italia diciamo non a suo agio beh ci può stare forse rispetto e siamo anche contenti noi che non si sente a suo agio uno che è stato condannato per associazione mafiosa in in italia questo lo ricorda oggi soltanto la verità sulla questione diciamo anche della diciamo delle fake news degli orientamenti che erano proprio i temi che di cui si occupa foa io vi segnalo un'altra cosa straordinaria oggi quello della sera si lamenta un'altra volta dei tweet che sono arrivati di matrice russa contro il presidente della repubblica quando non voleva accettare savona come suo ministro a parte il fatto che magari qualcuno poteva essere indignato e su twitter faceva a parte il fatto che scrive una propria opinione su twitter contro il presidente della repubblica ma anche argomentandola quando lui fa una scelta che può essere discussa perché tutti i costituzionalisti l'hanno discussa in quel periodo non mi sembra un reato qui dicono che avrebbero trovato 400 troll io ce ne avrò altri 50 sul mio sito in questo momento e non mi metto a fare le interviste o le indagini o i pezzi di marzio breda sul core della sera ci sono i troll che sono dei deficienti pagati da delle organizzazioni per rompere le balle spesso i miei sono troll grillini cioè grillozzi vedrete quanti ne trovo sui grillozzi che si lamenteranno perché avranno preso un pezzettino della mia parte della mia zuppa e si lamenteranno e poi sono specializzati i troll grillozzi non ne faccio una questione lo so l'ignoro che quello che si deve fare con lì due pagine di corriere della sera le fake news la manipolazione allora io mi chiedo se noi parliamo tanto di manipolazione dell'informazione come la dobbiamo considerare quella di desi che era un attacco razzista e poi si scopre che sono tre ragazzi che avevano fatto fuori sette persone con le uova fatto fuori si fa per dire giocato con sette persone di cui solo uno di colore cosa dobbiamo dire sul fatto che solo ora si scopre che desi che il papà di desi che si lamentava tanto di questo attacco sulla figlia è uno che spacciava cocaina e avviava la prostituzione carcerandole segregandole e rendendole in schiavitù donne nigeriane che arrivavano in Italia che si preoccupa di un uovo su sua figlia certo che si preoccupa perché sta in un paese che queste cose non permette che si facciano esattamente come non permette che si facciano le cose che lui ha fatto alle sue compatriote quando le ha portate in Italia secondo la condanna che ha ricevuto chiaro questo che cos'è non è fake news e ve ne segnalo un'altra che è straordinaria cosa ha fatto la raggi e toninelli ve la reggo perché è una cosa da non credere la raggi e toninelli hanno detto che andavano a vedere una pista ciclabile peraltro finanziata con i soldi della passata giunta marino sulla via nomentana e dicono visita sorpresa sul cantiere di via nomentana e la stessa cosa avveniva sull'instagram di toninelli ministro dei trasporti ministro dei trasporti dice visita sorpresa raggi dice visita sorpresa la presidente del comune del campanile cioè del quartiere che non era stata invitata e che si è seccata fa mette su facebook un post in cui fa vedere come quella non era una visita sorpresa perché c'era una circolare del comune che diceva che in quel giorno sarebbero arrivati l'azienda municipalizzata avrebbe dovuto spazzare meglio le strade ci sarebbe dovuto essere un fotografo dovevano tirare a lucido quella strada e quel quartiere perché arrivava la raggi col ministro toninelli questo come lo chiamate vorrei usare un termine che usano spesso i grillozzi e repubblica fascismo minculpop cioè spiegare che il ministro dei trasporti nella visita sorpresa che è avvenuta via nomentana magari davanti a villa taverna nella visita sorpresa che il ministro e il sindaco la sindaca scusate mi hanno fatto nel frattempo fotografo e nettezza urbana e avevano messo tutto apparecchiato perché fosse una ficata ma allora questo come la chiamate questo sì che è un vero troll è una vera voglio dire lamentela ma non troverete marzio breda il corredo della sera che ne parla più di tanto semplicemente perché una cosa è difendere il quirinale una cosa è difendere i cittadini romani dalla sporcizia della propria città vado avanti due altre questioni il decreto dignità purtroppo passa è una schifezza totale è una cosa indecorosa zoppas una bella intervista il presidente della confindustria veneta oggi sul corredo della sera ci spiega per quale motivo distruggerà posti di lavoro non solo oggi solo le 24 ore fa un buon lavoro e ci ricorda come in realtà da qua a novembre ci saranno quattro regimi diversi per i contratti a tempo determinato allora voi dovete pensare un'azienda deve investire per competere con i suoi mercati per cercare di far funzionare il suo prodotto per fare operazioni di marketing per trovare i soldi per pagare le tasse no sapete cosa deve fare deve investire per capire come cazzo assumere 20 persone a tempo determinato perché da qua a novembre ci sono quattro regimi diversi in contrasto tra loro per l'assunzione a tempo determinato secondo voi si assume un posto una persona con questo tipo di burocrazia? di burocrazia no io ve lo chiedo secondo voi questo è il modo Zoppas ci spiega perfettamente perché questo è un modo per distruggere posti di lavoro e non crearne e noi stiamo qua a pensare alla presidenza della RAI sulla presidenza della RAI si apre anche un'altra vicenda e cioè quella che portano il Corriere ma molto anche il giornale ovviamente cioè che Salvini ha detto basta liberi tutti adesso tutti quelli che vengono da Forza Italia possono arrivare nel partito io prima accettavo i transfughi delle liste civiche nella Lega adesso tutti quelli che volete dalla Mussolini in poi venite nella Lega e svuotate Forza Italia bel risultato ottenuto per opporsi a FOA secondo me è mio per quest'operazione di Forza Italia l'ho detto in tutti i modi bello il Daily Mail di oggi che sembra l'Italia perché ci sono due notizie internazionali che ci riportano dicendo un po' di buon umore e cioè finalmente siamo in Italia una è Amazon che in Gran Bretagna secondo il Daily Mail pagherebbe nel 2017 cioè ora si fa la dichiarazione di redditi la bellezza di 1,7 milioni di sterline cioè in Gran Bretagna Amazon paga 1,7 milioni di sterline di tasse e fa un fatturato in aumento a 2 miliardi avendo distrutto, dice Daily Mail, tutti quanti il retail cioè i negozietti nelle città e loro non erano tanto negozietti io la trovo fantastica perché mi sembra una polemica italiana e anche lì riescono a non pagare tasse peraltro in Inghilterra si pagano molte meno tasse che in Italia perché si vede che Amazon paga meno tasse in Inghilterra grazie al fatto che dà ai suoi dipendenti azioni come bonus per il loro ottimo rendimento cose un po' complicate ma il tema resta i giganti della rete che pagano poche tasse e distruggono i lavori tradizionali anche in Inghilterra in Fraccia, no no Nicola lo scoop è mio da ieri sta su tutti i miei social sono stata la prima a scovare la notizia e la prima ad avere la sentenza del tribunale oggi è sul giornale, dice Laura Tecce non ho capito di che cosa stai parlando forse della condanna del padre beh insomma allora non l'ho vista bene e mi scuso con Laura soprattutto se riguarda un pezzo fatto dal giornale beh l'altra cosa incredibile di oggi perché ci sembra di stare in Italia è la storia della torre Eiffel che viene chiusa per sciopero 25 mila persone in sciopero 25 mila persone non possono salire da due giorni sulla torre Eiffel perché è in sciopero ridicola nel frattempo la storia delle Olimpiadi italiane Fudora lascia l'Italia cioè su tutti i giornali è un mercato da 2 miliardi di euro quella delle consegne a domicilio bella l'interpretazione di Carlo insomma bella l'interpretazione dei giornali che comunque non la legano questa uscita di Fudora al decreto dignità eppure il suo amministratore detecato tanto se ne era lamentato dicendo che se ne sarebbe andato via dall'Italia forse non è il decreto di dignità portarlo via qua dall'Italia ma il fatto che ci sono molti concorrenti e il mercato è difficile l'ultima cosa che vi segnalo è Mattia Feltri molto bello il suo feltrino di oggi il buongiorno sulla stampa colto che ci ricorda come da Ovidio a Arendt a Wolf tutti quanti alla fine pensano che i loro tempi siano particolari e diversi rispetto a quelli del passato bene è difficile da spiegare un pezzo così ben scritto io vi do appuntamento come sempre domani con la zuppa di porro e se vi piace condividetela e sul mio sito tutte le altre informazioni che volete si mangia il troll no grillozzi grulli che strumentalizziamo tutto gente di M ma se poi è una cooperativa che si occupa di imprezzazione era un pregiudicato per reati di sfruttamento forse ci sarebbe da vedere cosa e come l'integra giustamente questa è la questione che riguarda il papà di Daisy io sono elettrice Movimento 5 Stelle ma ti apprezzo e non mi piace trollare che la pensi diversamente da me ti seguo sempre ecco brava grazie a Maria Antonietta ci sono tanti che ci seguono il Movimento 5 Stelle che dicono e che vorrei che dicessero esattamente quello che scrive Maria Antonietta perché chiunque mi segue sa perfettamente che su certe cose del Movimento 5 Stelle sono assolutamente chiaro come sul decreto di dignità Movimento 5 Stelle e per carità Lega perché io ieri vi volevo far vedere le comunicazioni della Lega che mi sembrano quelle sì davvero ridicole di esultanza per l'approvazione del decreto della dignità bene dai su saluti a tutti quanti soprattutto a Maria Antonietta che giustamente dice ti contesto ma posso farlo senza fare da troll ciao grazie a tutti grazie a tutti